Il principe Harry è stato messo saldamente al suo posto dalla regina dopo aver usato un linguaggio maleducato durante una lite sulla tiara nuziale di Meghan Markle, ha affermato una fonte reale. Sono passati tre anni da quando il duca e la duchessa del Sussex si sono sposati alla ST George Chapel nel castello di Windsor. Ma il giorno del loro matrimonio è ancora da ricordare. Meghan ha indossato la splendida tiara di diamanti della regina Mary durante il suo giorno speciale. Ma secondo quanto riferito è stata la causa di molto stress e turbamento con la regina e lo staff reale. Punto. Ci sono state segnalazioni di una lite tra la regina e Meghan e Harry quando il monarca apparentemente non le avrebbe permesso di indossare una tiara che aveva selezionato. Alcuni addetti ai lavori hanno affermato che Meghan voleva indossare una tiara di smeraldi, ma la regina ha selezionato quella di diamanti della regina Mary. Tuttavia, l'autore reale Omid Scobie ha affermato che non era quello che è successo e ha detto che l'incontro è andato davvero liscio. Il signor Scobie ha detto a The Royal Beat di True Royal TTV che l'incontro è stato in realtà un enorme successo. Ha detto, la selezione della tiara è andata meravigliosamente. La regina era molto felice. Meghan era molto felice. Tuttavia, il signor Scobie ha affermato che, sebbene la decisione stessa sia andata a buon fine, nelle settimane successive ci sono stati drammi. Ha affermato che la sarta e amica intima del monarca, Angela Kelly, rendeva le cose molto difficili quando si trattava di organizzare le prove di prova. Ha aggiunto, il dramma ha avuto luogo dopo, quando Meghan ha voluto provare quella tiara con il suo parrucchiere, perché c'è molta tecnologia in questo. Hanno dovuto fare un esperimento prima del giorno del matrimonio. L'Air Stylist è arrivato dall'estero. C'era un appuntamento a Buckingham Palace. Ma non c'era nessuno. Il signor Scobie ha affermato che Harry è stato coinvolto per salvare il giorno dopo che Meghan ha faticato a organizzare una prenotazione. Ha detto. Ogni volta che Angela Kelly non era disponibile per organizzare questo, per facilitare questo, nonostante avesse accettato.